ecco qua stecco del freno via oggi terzo giorno consecutivo di pulizia dei sentieri si va merda segnale gps troppo debole per fare la traccia siamo fuori dal mondo chi ha gps non rive qui abbiamo un piccolo il settino rimano via veramente la lice la lice di signore la lice di signore la lice di signore Tratto molto impegnativo adesso di pulizia perché è chiuso da parecchio, mi ha fatto un pezzetto, tentiamo di proseguire. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti i due oretti abbondanti, un gran risultato, super! Si, è da ritornare comunque, non è finito!